Un appello a istituzioni e società civile per fare rete e non lasciare più sole le famiglie. Parliamo di un tema di strettissima attualità, tra l'altro proprio all'inizio di questo mese, il 2 aprile nello specifico, si è tenuta una giornata, la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Noi quest'oggi vogliamo parlare con l'Istituto Serafico di Assisi che ha lanciato un appello a istituzioni e società civile, fare rete e non lasciare più sole le famiglie. Noi abbiamo in collegamento questa mattina la dottoressa Francesca Di Maolo che è presidente dell'Istituto Serafico di Assisi. Buongiorno e benvenuta. Ecco, probabilmente abbiamo qualche problema con il collegamento audio. Allora invito la Regia a contattare la dottoressa per verificare appunto la possibilità di interloquire con lei. Vi do ulteriori dettagli circa quella che è appunto la notizia relativa a questo appello lanciato dall'Istituto Serafico di Assisi. Un vero e proprio appello lanciato a istituzioni politiche e sanitari a tutta la società civile affinché si affrontino con decisione e concretezza le tante problematiche delle persone con disturbi del neurosviluppo. Primo tra tutti il sostegno alle famiglie delle persone con autismo e la necessità, come dicevo, di fare rete anche sul territorio accompagnando le persone con neurodiversità in ogni fase della vita e non solo attraverso servizi adeguati ma anche mediante percorsi in cui ognuno possa esprimere il proprio talento. Con questo obiettivo l'Istituto Serafico di Assisi, che è un centro di eccellenza per la cura di disabilità gravi e gravissime. Ecco, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che ricorre il 2 aprile, insieme al Tavolo Nazionale per l'autismo della Conferenza Episcopale Italiana, ha organizzato l'incontro La salute mentale dei bambini e adolescenti, nuove emergenze. Ecco, dovremmo essere in collegamento adesso con la dottoressa Di Maulo per approfondire questi temi. Ecco, dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, bentrovati. Ecco, benissimo. Abbiamo la possibilità di affrontare un tema che è sicuramente molto vasto, ma partiamo proprio da quello che è il tema centrale di questa mattina, l'appello che avete lanciato in occasione della giornata del 2 aprile, fare rete. Perché? Quali sono i bisogni e le necessità di queste famiglie? Ma hanno bisogno di essere accompagnate, hanno bisogno di non sentirsi sole. Innanzitutto diciamo che ci sono molte difficoltà nell'ambito dei problemi del neurosviluppo e questo perché sono disturbi in continua crescita. Noi proprio nella giornata che lei ricordava abbiamo segnalato come il problema più generale del disagio mentale coinvolge 2 milioni di persone e per quanto riguarda le persone con disturbi dello spettro autistico siamo passati negli ultimi anni da 1 su 77, che già era un numero, una percentuale molto alta, a 1 su 50. E quindi è chiaro che da un lato c'è un sistema sanitario che fa difficoltà ad affrontare queste problematiche, dall'altra abbiamo genitori che si trovano ad essere molto soli, hanno bisogno comunque di essere accompagnati, soprattutto quando si arriva alla fatidica data del diciottesimo anno, per cui sembra che a quel punto le persone guariscano e non abbiano più problemi, per cui dopo i 18 anni i servizi sono molto carenti. E la rete non è una rete che deve venire esclusivamente dal pubblico, dal servizio sanitario. Tutti siamo chiamati a custodire la vita più fragile e in difesa, ad offrire diciamo delle soluzioni che possono essere immediate. Ecco, in che modo è possibile questo? Facendo rete, ma concretamente ecco questo fare rete, come si può realizzare tra una famiglia e l'altra, anche con l'ausilio delle stesse istituzioni? Sicuramente l'associazionismo è molto importante, poi però c'è anche tutta la società civile che non può non rimanere indifferente a questo problema, perché chiaramente si possono fare tante cose, addirittura trovare il modo di far esprimere a queste persone, a questi ragazzi, quelle che sono le loro risorse. E quindi immaginare anche quanto sia importante trovare dei luoghi in cui le persone con disturbo artistico possono esprimere i loro talenti. Penso al teatro, penso alla possibilità di lavorare. Oggi stiamo conoscendo anche i ristoranti che ospitano, che in qualche modo coinvolgono queste persone. Sono esperienze molto belle che noi non ci dobbiamo attendere dal pubblico. È lì che la società civile deve e può fare la differenza. Certo, sono realtà che conosciamo molto bene perché abbiamo la possibilità anche nel nostro contesto di incontrarle e di condividere con i nostri telespettatori l'importanza di queste iniziative attraverso gli stessi ristoranti a cui faceva riferimento, in cui questi ragazzi si sono coinvolti e diventano protagonisti, entrando a pieno diritto nella vita lavorativa e sociale. Dunque un tema questo, come dicevamo, molto importante perché rappresenta il 16% del carico globale di malattie che va nella fascia dai 10 ai 19 anni. Quindi un carico importante, come le stesse sottolineava Pocanzi, per il sistema sanitario e per la società appunto italiana. Assolutamente e diciamo che noi abbiamo un sistema e una rete che tende ad addossare prevalentemente alle famiglie il carico anche di assistenza. Io ho conosciuto e conosco continuamente mamme e padri straordinari che sono diventati educatori, che sono diventati infermieri, che sono diventati in qualche modo, che suppliscono in qualche modo i servizi che mancano. A cui abbiamo delegato tutto. E questo non è giusto, non è giusto. Cioè madre e padre che alla fine hanno deciso chi doveva continuare a lavorare, perché chiaramente qualcuno rimaneva a casa. Quindi le famiglie si impoveriscono e si impoveriscono e finiscono per essere famiglie monoreddito, proprio quelle che devono affrontare maggiori spese, perché i trattamenti non vengono passati e coperti tutti dal servizio sanitario. E quindi ci sono molti servizi e trattamenti che poi finiscono per ricadere sulle spese del genitore. Allora, ecco perché è necessario, noi non ce lo possiamo permettere di avere persone che escono dal carico di lavoro e me lo lasci dire, persone che si ammalano, ammalano accanto ai loro figli. Perché è difficile affrontare, soprattutto nei casi più gravi chiaramente, penso ai casi più gravi, è difficile ad affrontare tutta la vita senza momenti di respiro, senza momenti da dedicare a sé. Il Serafico ha attivato, per esempio, un servizio di sollievo a volte alle famiglie. E non penso solo a quei momenti in cui la famiglia ha bisogno di ritrovarsi, una mamma ha bisogno di ricaricarsi. Mi hanno scritto mamme che mi dicevano, sai, dopo quei dieci giorni di sollievo, in quei dieci giorni di sollievo, io sono andata a cena fuori, io sono andata a teatro. Io credo che sia una normalità, anche se piccola, che dobbiamo riconoscere. Oppure i casi più gravi, quando ti arrivano i genitori che ti dicono, una mamma, mi è successo tre volte in un mese questo mese qua, che mi dicono, ho un cancro, mi devo operare, devo affrontare la chemioterapia, dove metto mio figlio? Allora, possiamo permetterci questo? No, non ce lo possiamo permettere come cittadini, non ce lo possiamo permettere come cristiani, per questo l'importanza di una rete che si ritessa a partire dalle persone che sono sole, che sono più fragili. Ecco, in queste parole, in queste sue riflessioni c'è davvero tutto. Grazie davvero di cuore, dottoressa, per averci dato l'idea e fatto comprendere anche alle persone che magari sentono parlare di queste tematiche, ma non sono addentro ad una situazione così a volte drammatica. Ecco dunque l'importanza di fare rete, di fare attenzione riguardo di queste problematiche, noi come semplici cittadini, ma soprattutto a questo punto l'appello più urgente è proprio quello che vogliamo fare alle stesse istituzioni, affinché ci sia un aiuto concreto e sempre maggiore verso queste realtà. Grazie dottoressa, torneremo sicuramente presto a parlarne perché riteniamo sia un argomento che non vada limitato esclusivamente alle giornate che pur sono importanti di riflessioni dedicate a questi temi. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Noi ci fermiamo ancora una volta e poi apriremo un'altra parentesi dedicata ad un altro tema importante, qual è quello dell'accoglienza dell'immigrazione attraverso un rapporto, il rapporto 2023 del centro Astaglia appena presentato.